Non ho niente contro Romina. Loredana Lecciso prova a evitare ogni tipo di polemica parlando della storica ex moglie di Albano. Dal suo salotto televisivo domenicale, Barbara D'Urso ha stuzzicato l'Alecciso chiedendole di commentare un episodio riportato dal sito d'Agostia e risalente all'estate, quando all'hotel Hilton di Roma Romina Power e la figlia Romina Junior sarebbero fuggite per evitare di incontrare proprio Loredana, che si trovava lì per un set fotografico. Se fosse vero mi dispiacerebbe, ha commentato l'Alecciso. Io non ho nulla contro di lei. Se l'avessi vista, l'avrei salutata, ha poi aggiunto. Insomma, nessun imbarazzo, nessuna volontà di evitarsi, almeno secondo la versione di Loredana, che dice di non avere problemi con la Power. Le avrei parlato volentieri e normalmente, ha detto.